e siamo pronti a interrompere i lavori di manutenzione delle scuole, eccetera, eccetera. Cioè, il messaggio è chiaro, forse il modo con cui lo viene lanciato è discutibile. Guardi, oggi è l'anniversario di 186 anni di Bram Stoker, lo ricordate, lo scrittore di Dracula. E allora, guardi, noi abbiamo ancora troppi, tanti Dracula, ad esempio nelle province, perché la cosa seria che invece doveva fare questo governo è eliminare assolutamente questo ente inutile delle province. Perché a che serve per tenere lì qualche presidente a cui dare uno stipendio ai consiglieri provinciali, alle segretarie, agli staff, ai portavoce? Insomma, un apparato burocratico inutile e che costa solo che piuttosto che invece riscaldare le scuole, i soldi pubblici, il denaro pubblico, questa spesa pubblica inutile mantiene delle province inutili. E allora è lì che bisogna mettere mano, come ad esempio le assemblee di rappresentanza che teniamo nel nostro Paese, cominciando dagli organi costituzionali, che costano 6 miliardi e mezzo l'anno. È lì che bisogna mettere mano. E sono state le mie proposte nella legge stabilità. Perché se non si riduce questa spesa pubblica insopportabile, 6 miliardi e mezzo sono quasi la manovra che ha fatto recentemente la Grecia nel suo Paese. Io sicuramente non voglio cancellare il Parlamento o la Presidenza della Repubblica, ma non può costarci ancora la Presidenza della Repubblica italiana, 12 volte in più rispetto alla Presidenza della Repubblica tedesca, pur avendo le stesse funzioni. E allora, guardi, il mio terremoto che continuerò a portare in Parlamento nei prossimi giorni è quello di chiudere il rubinetto definitivamente del finanziamento ai gruppi, ai partiti politici e ad una spesa pubblica ormai insopportabile. Abbiamo visto nel secondo trimestre del 2012 altro record, 126,1%, cioè aumenta ancora in più. Perché aumenta ancora in più? Perché intanto a Mastropasqua al Presidente dell'Inps continuiamo a dare un milione di euro all'anno che si mette in tascoccia come gli altri grandi boiardi di Stato, mentre le pensioni sociali, è venuto domenica scorsa una signora anziana a casa mia mi ha detto che di pensione sociale a 148 euro al mese. E allora, guardi, queste ingiustizie sono intollerabili e maggiore deve essere la resistenza che noi stiamo continuando a portare avanti in Parlamento e nel Paese per dare un punto di riferimento forte con la schiena dritta agli italiani perché noi continuiamo su questa strada. Ad esempio, io voglio scoprire, voglio sapere, stamattina l'ho chiesto nella riunione dei gruppi di tale dei valori, cominciando dai tale dei valori, voglio sapere i finanziamenti ai gruppi parlamentari, insomma, i parlamentari, i capigruppi, quanti denari si sono messi in tasca? E non c'è vendicondazione, non c'è notizia. C'è lei teme dei casi fiorito anche all'interno del Parlamento? Sicuramente, e vi farò vedere la settimana prossima che cosa c'è in Parlamento. E questa politica, questi partiti devono venire definitivamente giù perché non è più tollerabile che ci siano dei fioriti, che è l'unica cosa di cui si preoccupano. L'unica anticipazione che vi do è che mentre gli italiani continuano a soffrire ad avere pensioni sociali a 149 euro o non avere lavoro, intanto in Parlamento ci sono, nella migliore delle ipotesi, dei grandi evasori fiscali, o addirittura si funziona ancora in modo peculatamente. Cioè, il denaro pubblico, i finanziamenti pubblici vengono utilizzati peculatamente. O addirittura c'è un'attività di riciclaggio. E precisamente vi dirò tutto come funziona. Ed è la ragione per la quale PD, PDL, UDC, abbiamo sentito i partiti delle barzellette, i partiti che si preoccupano oggi solo di ritornare nella prossima legislatura per continuare con questo scenario. Mentre io mi dicono che faccio l'antipolitica. Sì, se antipolitica significa far assumere al Ministero della Giustizia i lavoratori ed andare lì a far assumere i 271 rispettori di polizia penitenziaria o i 1886 i carabinieri, io porterò a termine queste cose. Perché non mollo su questo punto. Perché c'è bisogno di dare spazio ai giovani, occupazione ai giovani e mandare a casa boiardi di Stato che vanno ancora a un milione di euro all'anno e una spesa pubblica inutile e palastitaria di cui questo paese non ne ha più bisogno. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie ovviamente per queste anticipazioni.